buongiorno a tutti bentornati al nostro corso di analisi matematica a oggi siamo con oggi cominciamo l'ultima settimana di lezione per quanto riguarda il corso da parte a poi mercoledì termineremo e poi riprenderemo il prossimo semestre nel frattempo ovviamente poi ci saranno i parziali a gennaio febbraio allora cosa ci resta da fare ci resta da fare un po di pratica con gli integrali quindi l'ultima volta abbiamo concluso con l'enunciato e la dimostrazione della formula del cambio di variabile quindi ricordiamo cosa abbiamo visto l'ultima volta l'ultima volta abbiamo visto la formula integrale fra i b di f di x in dx che cosa succede se si fa il cambio x uguale fi di t questa integrale diventa integrale tra fi a meno 1 di a fi a meno 1 di b f di fi di t e al posto del dx mi raccomando che cosa ci mettete non ci mettete dt semplicemente ma ci dovete mettere fi primo di t in dt il motivo ve l'ho spiegato l'altra volta perché ho fatto la dimostrazione quindi la dimostrazione spiega perché qui ci va messo fi primo in dt ok e vi rievidenzio un'altra volta quindi questo formalmente vuol dire che avete chiamato x uguale fi di t allora vedete gli estremi di integrazione come come sono cambiati quindi fi era una funzione da cd l'intervallo cd in ab che era una funzione derivabile derivabile e biettiva allora diciamo qualcuno di voi potrebbe pormi la domanda dice perché hai scritto gli estremi in questa forma complicata fi a meno 1 di b fi a meno 1 di a non ci potevi mettere direttamente cd? e no non ci potevo mettere cd la formula vale esattamente in questo modo di nuovo ve l'ho dimostrato allora ovviamente questi due estremi per come è fatta la funzione derivabile biettiva non è difficile dimostrare che in realtà deve essere una funzione monotona quindi o crescente o decrescente è questo cambio di variabili quindi questi due estremi saranno cd o dc ecco dipende da se il cambio di variabili è crescente o decrescente per questo la scrivo in questa forma in questa forma è corretta solo che quindi fissiamo questa notazione di cui ancora non vi ho parlato adesso è il caso di parlarne allora nel caso se a è minore di b si scrive quindi che cosa vuol dire l'integrale fra b e a di f di x in dx vedete che apparentemente ho scambiato ho scritto il contrario allora questo è uguale a meno metto un segno meno e addirizzo gli estremi ok quindi questa se volete prendetela come convenzione quindi si possono sempre scambiare gli estremi di integrazione a patto di mettere un segno meno ok così la formula vista in precedenza è completamente coerente anche nel caso in cui questi estremi scambiati questi estremi di integrazione nuovi siano scambiati se fi a meno 1 di b è uguale a c per esempio e fi a meno 1 di a è uguale a d quindi diciamo il disegno che dovete avere in mente è questo qui qua c'è c, d, a e b quindi questo è il cambio fi crescente quindi in questo caso ovviamente fi a meno 1 di a qual è l'unico punto la cui immagine tramite fi da a è c e fi a meno 1 di b è d però potrebbe anche succedere il caso in cui fi è decrescente allora in tal caso ovviamente gli estremi di integrazione dopo cambio di variabili ve li trovate invertiti ma non è grave perché in base a questa formula che vi ho appena detto vi potete sempre mettere nell'ordine giusto mettendo un segno meno allora vediamo degli esempi cominciamo a vedere degli esempi perché il cambio di variabile è una delle tecniche più potenti ma anche più difficili da maneggiare perché già vi dovete dovete aspettarvi quale sarà il problema degli integrali da fare col cambio di variabili è che nessuno vi dice qual è il cambio di variabile da fare ve lo dovete inventare voi dovete avere voi il colpo d'occhio giusto per capire qual è il cambio di variabile allora comincio da diciamo delle cose abbastanza semplici cioè in cui i cambi di variabili sono esattamente uno se li puoi immaginare allora poi piano piano come sempre cerchiamo di complicare la discussione fino ad arrivare alle cose più interessanti allora coseno di 3x più 2 in dx calcolare questo in realtà è molto facile non importerebbe neanche fare un cambio di variabili però giusto per esercitarci allora effettuiamo il cambio di variabili che cosa vi verrebbe voglia di fare? di dire che tutto questo argomento del coseno è la nuova variabile quindi effettuiamo abbiamo il cambio di variabile 3x più 2 uguale t ok? allora ovvero questo non è nella forma che vi ho presentato prima vero? allora era x uguale una funzione della variabile t questo è il contrario t uguale una funzione di x allora cosa devo fare per cascare nel quadro della formula precedente? devo sostanzialmente invertire questa relazione quindi devo scrivere che x è uguale a t meno 2 fratto 3 e questa sarà la fi di t ok? molto bene allora che cosa succede? adesso devo vedere come cambia l'argomento e vabbè quello l'ho fatto apposta diventerà t che cosa succede al dx? al posto del dx devo metterci fi' di t e come cambiano gli estremi quindi l'integrale fra 1 e 2 di coseno di 3x più 2 in dx è uguale a allora copiamo la formula fi a meno 1 di 1 fi a meno 1 di 2 coseno di abbiamo detto che il cambio di variabile è fatto in modo che 3x più 2 sia uguale a t quindi questo è coseno di t e al posto del dx cosa devo metterci? devo metterci fi' di t ma fi' quanto fa? devo derivare t meno 2 fratto 3 rispetto a t un terzo quindi fi' di t è uguale a un terzo scriviamolo qua su quindi qua viene un terzo in dt allora ci mancano ancora gli estremi da determinare ci mancano gli estremi quindi com'era il cambio? il cambio abbiamo detto che era fi di t uguale a t meno 2 fratto 3 chi è fi a meno 1 che cosa devo fare per trovare fi a meno 1 di 1? devo trovare quell'unico elemento tale che la sua immagine faccia 1 ok? quindi che cosa devo fare? chi è la funzione inversa di fi di t? è scritta qui, no? quindi qui avete scritto x in funzione di t qui avete scritto t in funzione di x quindi questa è esattamente la funzione inversa quindi fi a meno 1 di x è uguale a 3x più 2 ok? da cui quindi fi a meno 1 di 1 chi è? basta sostituire basta sostituire al posto di x uguale 1 quindi cosa viene? viene 3 più 2? 5 direi e fi a meno 1 di 2 viene 3 per 2 è 6 più 2 è 8 ok? quindi ricordate sempre la definizione di funzione inversa no? quindi fi a meno 1 di 1 chi è? allora fi è una funzione che è questa qui quindi questo sarebbe l'unico t tale che fi di t è uguale a 1 ovvero l'unico t tale che fi di t è definita come t meno 2 fratto 3 quindi t meno 2 fratto 3 è uguale a 1 ovvero t uguale a 3 più 2 5 così abbiamo fatto un piccolo ripassino anche sulla funzione inversa ok? va bene torniamo qui perché a questo punto abbiamo scoperto chi sono i due estremi di integrazione sono c mi raccomando riportateli nell'ordine giusto quindi qui ci devo mettere 5 qui ci devo mettere 8 quindi integrale fra 1 e 2 di coseno di 3x più 2 in dx uguale all'integrale fra 5 e 8 di 1 terzo di 1 terzo coseno di t in dt e adesso è molto facile perché 1 terzo lo porto fuori dall'integrale una primitiva di coseno chi è? è per esempio seno da valutarsi tra 5 e 8 e quindi il risultato è seno di 8 meno seno di 5 fratto 3 allora come ho detto prima questo non era davvero un integrale si poteva fare anche a occhio si poteva capire come era fatta come andava a finire però ci siamo esercitati ad usare la formula di cambio di variabile in un frangente abbastanza semplice quindi tenete se adesso vado avanti e gli esercizi dopo non vi dovessero doveste capire bene questo fatto e tornate su questo esercizio perché è qui che l'ho usato in modo semplice secondo la formula adesso comincio a complicare un po' le cose provo a fare qualcosa di leggermente più complicato vediamo un po' se voglio trovare primitivo o voglio fare troviamo primitivo va bene allora sia alfa un parametro positivo trovare una primitiva trovare una primitiva della funzione quella funzione f di x uguale 1 su alfa più x quadro allora questo è un tipo di funzioni molto importanti poi ne parliamo meglio venerdì quando faremo l'integrazione di funzioni razionali quindi innanzitutto allora quando si parla di integrali di primitive bisogna subito cercare di capire dove vogliamo andare a parare cioè dobbiamo cercare di capire di che tipo è la funzione se riconosciamo che la funzione che stiamo integrando è la derivata di qualcosa o assomiglia alla derivata di qualcosa quindi per questo bisogna conoscere le derivate delle funzioni elementari allora questa funzione qui non è molto dissimile quindi osserviamo che nel caso particolare alfa uguale 1 poi non sarà sufficiente perché l'esercizio ce lo chiede per ogni alfa positivo però intanto per capire dove siamo allora nel caso particolare alfa uguale 1 una primitiva di 1 su 1 più 1 su x quadro chi è? l'abbiamo detto è l'arco tangente di x o arco tangente di x più costante va bene tanto ne stiamo cercando 1 adesso di primitiva ok quindi allora che cosa adesso alfa che è sempre positivo come era 1 solo che non è più 1 allora quindi che cosa devo aspettarmi probabilmente devo aspettarmi che per alfa positivo positivo generico salti fuori un arco tangente però adesso lo devo dimostrare per bene non è che posso dire vabbè sarà arco tangente di alfa x no perché non si fa la verifica e uno fa un'ipotesi e derivando viene che non è quella lì quindi evidentemente non è così facile però diciamo intanto dobbiamo inquadrare in che direzione vogliamo andare vediamo in che direzione vogliamo andare allora comincio osservando comincio facendo dei maneggi voglio cercare di ricondurmi al caso dell'arco tangente quindi comincio con delle manipolazioni algebriche allora prendo uno su alfa più x quadro allora se io voglio ricondurmi all'arco tangente che cosa devo far saltare fuori allora voglio l'uno a numeratore me lo tengo qui al posto di alfa ci vorrei uno e poi qui ci vorrei un quadrato questa è la struttura della derivata di un arco tangente allora se qui ci voglio uno non faccio che aggiungo e tolgo perché poi mi incasino perché poi mi deve restare un quadrato qui quindi aggiungo e tolgo non va tanto bene proviamo a raccogliere quindi raccolgo alfa allora viene uno più x quadro su alfa porto fuori uno su alfa questa è una costante che moltiplica mi resta uno più x quadro su alfa e mi direte prof la sua strategia per ora sta facendo cilecca perché va bene ammettiamo pure ha tirato fuori questa costante davanti questa non quando vado a integrare non è non è un problema no la tiro fuori dall'integrale però le doveva restare uno più un quadrato questo qui non è mica un quadrato come non è un quadrato questo non siete d'accordo che questo è un quadrato scriviamolo così uno su uno più x fratto radice di alfa tutto al quadrato adesso siete d'accordo eh allora che cosa mi sta suggerendo questo questi calcoli mi stanno suggerendo di fare un cambio di variabile riuscite a vederlo? fare un cambio tipo x su radice di alfa uguale t ovvero x uguale radice di alfa per t allora fate molta attenzione la formula del cambio di variabile quindi diciamo adesso mi soffermo due minuti a parlare di un errore tipico che fanno gli studenti come sempre fatto durante tutto il semestre bisogna fare molta attenzione nella scelta del cambio di variabile perché nella formula di cambio di variabile se la guardate bene dopo che fate il cambio x uguale fi di t c'è un nuovo elemento che entra dentro l'integrale che è quel fi primo di t quindi bisogna stare attenti non bisogna farsi ingolosire da dei cambi di variabile che apparentemente semplificano molto cioè per dire un errore abbastanza tipico dello studente lo studente vede una funzione complicatissima e dice tutto questo uguale t così tutto diventa semplice tutto diventa semplice un accidente perché poi bisogna calcolare come cambia il dx e il dx se voi fate un cambio di variabile troppo selvaggio può diventare una roba ingestibile ok quindi qual è il punto che qui funziona in questo esempio molto particolare è che con questo cambio di variabili si arriva alla funzione da integrare che ci piace 1 su 1 più t quadro e per effetto di questo semplice cambio quindi da cui come cambia il dx allora se il dx cambia poco siamo disposti a prendere questo rischio come cambia allora è semplicemente avete si dice riscalato la variabile quindi che relazione c'è fra la vecchia e la nuova c'è solo un coefficiente moltiplicativo quindi chi è come cambia il dx il dx cambia come radice di alfa per dt e questo signore qui è proprio il fi primo di t perché questo qui è fi di t ok quindi in sostanza il dx cambia molto poco in più con questo cambio si arriva a 1 su 1 più t quadro che era quello a cui anelavamo ci dovremmo essere no? dovremmo essere abbastanza a cavallo allora mettiamola in pratica ok quindi adesso sto cercando primitive quindi non ci sono stavolta estremi di integrazione per fortuna da controllare però vediamo che in realtà quel problema di invertire la funzione si ripresenta a un certo punto allora abbiamo quindi così vediamo come scrivo i cambi di variabile negli integrali per far capire allora 1 su alfa più x quadro questo abbiamo detto che lo scriviamo come 1 su alfa 1 su alfa e non so perché ho scritto radice di alfa 1 su alfa 1 su 1 più x su radice di alfa tutto al quadrato dx uguale allora qui faccio il cambio abbiamo detto x uguale radice quadrata di alfa t da cui dx uguale radice quadrata di alfa dt mettiamola tra parentesi allora cosa succede viene 1 su alfa 1 su 1 più al posto di tutta questa baracca ci posso mettere t perché l'ho fatta apposta il quadro dt ma non è finita qui vero attenzione attenzione c'è il fi primo eccolo qua lo metto in verde così vi ricordate dice perché l'ha scritto di un colore strano questo termine nuovo che non vedevo perché è legato alla formula del cambio di variabili questo ve lo scrivo ancora una volta questo è fi primo di t in dt che va a sostituire di x allora a questo punto ci siamo posso semplificare una radice quadrata con questo qui quindi resta 1 su radice quadrata di alfa chi è una primitiva di 1 su 1 più t quadro direi arco tangente di t senza indugio è finito l'esercizio? no attenzione l'esercizio non è ancora finito perché voi speravate che non essendoci gli estremi di integrazione non c'era bisogno di calcolare fi a meno u di rompersi le scatole con questa storia in realtà sì di nuovo perché perché io vi ho chiesto una primitiva di questa funzione questa funzione è funzione della variabile x voi mi avete reso una primitiva nella nuova variabile t ma a me non mi interessa io adesso cosa voglio fare? devo tornare indietro devo tornare indietro alla variabile mettiamolo tra virgolette indietro alla vecchia variabile x allora come sono legati però questo è molto facile come sono legati x e t in questo caso è molto semplice c'è questa relazione quindi al posto di t cosa ci dovete mettere? x sul radice di alfa quindi vediamo un po' riassumendo una primitiva di 1 su alfa più x quadro in dx è uguale a 1 sul radice di alfa arco tangente di t che però diventa 1 su radice di alfa arco tangente di x su radice di alfa fatemi riscrivere tutto per bene perché a volte voglio essere veloce e faccio dei pastrocchi allora 1 su radice di alfa arco tangente di t e adesso al posto di t ci dovete mettere questa cosa che avete appena detto ecco questa è una risposta ammissibile in un compito ovviamente se mi date questa risposta qui io tra l'altro non so che conti avete fatto quindi non mi interessa io voglio sapere se questa era una funzione della variabile x voglio una primitiva in funzione della variabile x ok quindi eccolo qua ovviamente esercizio per voi esercizio che a questo punto dell'anno non è molto significativo ma comunque è sempre bene farlo così vi aiuta vi esercitate a fare conti e conti in rapidità soprattutto verificate che effettivamente questa è una primitiva di questa funzione cosa dovete fare dovete derivare rispetto a x e ottenere 1 su alfa più x quadro ok allora complichiamo poco poco complichiamo poco poco la faccenda così anche se qualcuno non avesse capito troppo questo esercizio ne faccio uno che è un po' diverso ma in realtà è molto simile e quindi ci possiamo ripassare sopra anche questi sono esercizi sono primitive che io faccio per esercitarmi al cambio di variabili ma anche perché poi mi tornano utile per introdurve come ho detto venerdì l'integrazione di funzioni razionali cioè di rapporti frappolino allora si trovi una primitiva quindi sempre integrazione indefinita una primitiva di stavolta la funzione è fatta così 1 più x quadro dice la so no fermi perché ci aggiungo x quindi adesso forse la sapete un po' meno va bene allora anche qui diciamo ci vuole un po' di fantasia un po' di esperienza un pizzico di spregiudicatezza per fare questo integrale quindi cosa cosa dobbiamo cercare di fare ovviamente un tentativo un tentativo potrebbe essere quello di dire un tentativo ingenuo sarebbe quello di dire tentativo ingenuo scriviamolo allora credo che diciamo queste cose che io faccio come sempre mi fanno perdere un po' di tempo rispetto al poco tempo che abbiamo e dobbiamo fare un sacco di cose cioè quello sostanzialmente di fare gli esercizi in modo sbagliato come lo farebbe uno studente però mi serve innanzitutto per sottolinearvi errori o ingenuità che voi potete commettere che vi fanno perdere del tempo quindi cerchiamo di discuterne insieme così magari si spera che potete apprendere qualcosa e salvare del tempo che è prezioso durante il compito e anche per spiegarvi perché faccio un certo tipo di cambio di variabile mentre magari qualcuno mi dice ma non hai visto bastava fare così ecco perché allora il tentativo ingenuo potrebbe essere questo x più x quadro uguale t anzi uguale t quadro no? perché qui io voglio uno su uno più t quadro oppure uno potrebbe anche dirmi no ma io voglio proprio fare questo cambio qui quindi x più x quadro uguale t così qui mi trovo uno su uno più t uno su uno più t è la derivata del logaritmo di uno più t ho finito attenzione come sempre qual è il problema quando si fa il cambio di variabili è che compare il fi primo il fi primo chi è? non lo so non lo so perché adesso questo è t uguale funzione di x quindi questo è come dire questo è come dire fi almeno uno di x e adesso che devo fare è che se voglio ricondurmi alla formula del cambio di variabili devo invertire la relazione quindi devo sapere invertire questa funzione e scrivere x uguale una funzione di t devo invertire per poter scrivere x uguale fi di t quindi non so chi è fi di t allora in realtà qui ci si farebbe ancora ci si farebbe ancora come si fa? come si fa? questo è un polinomio lo guardo come un polinomio di grado 2 in x t è il dato trovo le radici di questo polinomio di x che saranno funzioni di t e vediamo che cosa ottengo quindi andiamo ancora avanti due minuti poi tra due minuti sarà ovvio che nessuno vuole più fare questo cambio di variabili ok? quindi da x quadro più x uguale t ottengo x quadro più x squadro più x scusate meno t uguale 0 ovvero adesso esplicitando x in funzione di t quindi cosa vuol dire? trovando le radici quindi cosa viene? x 1 2 uguale a meno 1 più o meno compare una radice quadrata e già mi sto inquietando tantissimo perché mi devo immaginare che questo oggetto poi va derivato ed entra dentro l'integrale un disastro comunque andiamo ancora un po' avanti viene 1 più 4t direi dalla formula fratto 2 allora ci sono due radici in realtà noi la funzione la vorremmo invertire quindi deve essere unica quindi x uguale fi di t con fi di t uguale questo oppure l'altro poi bisogna fare la discussione bisogna fare la discussione dei due allora ci piace questo cambio di variabili? ci piace questo cambio di variabili? non tanto da dove lo vedo che non mi piace tanto è perché quando vado a sostituire al posto di dx mi viene fi primo t in del t che quale che sia la definizione capite anche voi insomma viene roba complicata non la scrivo neanche non la sto neanche a scrivere quindi questo era per farvi un esempio di ciò che vi dicevo prima che a volte lo studente dice io faccio il cambio per cui la cosa che non so trattare la chiamo t e dopo diventa tutto facile no per niente dopo diventa tutto estremamente complicato è proprio il contrario per effetto proprio di questa sostituzione che voi dovete andare a fare quindi lasciamo perdere lasciamo perdere ci vuole qualcosa di un po' più furbo vuole qualcosa di più furbo scriviamo allora riscriviamo il nostro integrando è 1 su x x più x quadro allora osserviamo che osserviamo che il denominatore quindi qual è la struttura di questo integrando è 1 diviso un polinomio un polinomio di grado 2 un po' come era l'integrale precedente no? prima era 1 su alfa vx quadro questo era un tipo particolare di polinomi di grado 2 allora che particolarità accomuna questi due polinomi 1 vx vx quadro e alfa vx quadro c'è una particolarità che li accomuna quindi è di nuovo un polinomio di grado 2 che non ha radici reali che non ha radici reali cioè in altre parole 1 più x più x quadro è sempre diverso da 0 anzi ancora più precisamente è sempre strettamente positivo se non ci credete fate il delta fate il delta delta come si fa? viene b al quadrato che è 1 meno 4 per ac che fa 4 uguale a meno 3 negativo ok? allora perché dico di nuovo? perché anche nel caso di alfa positivo di prima alfa vx quadro alfa vx quadro aveva un delta negativo quindi era di nuovo un polinomio di grado 2 senza zeri allora da questo punto di vista le due funzioni da integrare sono abbastanza simili allora proviamo a vedere se possiamo ricondurci se possiamo ricondurci all'esercizio precedente anche qui ci vuole un po' di un po' di fantasia allora prendiamo il denominatore 1 più x più x quadro e proviamo a scriverlo in questo modo qualcosa come alfa positivo più un quadrato perché alfa più un quadrato lo sappiamo integrare l'abbiamo visto prima allora qui che fantasia mi serve? devo pensare a questo x come un doppio prodotto questo x quadro come un quadrato quindi partiamo proprio da questo x quadro più x doppio prodotto doppio prodotto fra cosa? 2 per un mezzo per x lo posso vedere così ok? bene allora questi due termini che cosa sono? sono due termini del quadrato di un binomio un binomio fatto da x e fatto da un mezzo perché vedete qua avete due volte doppio prodotto cosa mi manca per avere il quadrato di questo binomio? mi manca il quadrato di un mezzo che è un quarto questo adesso è un mezzo più x al quadrato e qualcuno mi dirà prof bellissima ci sono cascato per un attimo però non mi frega perché un quarto più x più x quadro non è uguale a uno più x più x quadro ma infatti non è uguale non sto dicendo che è uguale perché vi manca un pezzo che cosa vi manca? qui ci avevate uno ci avete messo un quarto allora vi mancano tre quarti eccoli qua quindi questo trucchetto si chiama a volte completamento del quadrato quindi riscrivo tutto come tre quarti più un mezzo più x al quadrato ovvero quindi uno su uno più x più x al quadrato allora tutti questi esercizi che io vi faccio sono apparentemente dei casi particolari ma da cui se poi volete ci potete estrarre una for una legge più universale non a caso ho esordito facendovi osservare che questo è uno diviso un polinomio che non si annulla mai evidentemente tutti i conti che io sto facendo sono si riproducono uguali per un integrando di questo tipo uno diviso un polinomio di grado due che non si annulla mai quindi il trucco che si fa è sempre lo stesso il completamento del quadrato adesso vediamo un po' quindi questo lo riscrivo come uno su tre quarti più x più un mezzo al quadrato perché ho fatto tutto questo perché mi sono ricondotto a prima vero? giusto? quindi se adesso faccio il cambio faccio il cambio x più un mezzo uguale t ovvero x uguale t meno un mezzo perché è proprio questo perché così questo mi diventa uno su numero positivo più t al quadrato l'ho integrato prima ho scoperto prima come funziona no? quindi mi riconduco in questo modo mi riconduco all'esercizio precedente vediamo un po' se siete d'accordo se ancora non avete capito adesso faccio tutti i passaggi ovviamente qualcuno che ha seguito fino a qui la spiegazione dice prof diciamo che mi ha anche convinto che con questo cambio però mi ha sempre detto di fare attenzione al dt come cambia il dx e lo vedete da voi questo è fi di t chi è fi primo di t se fi di t è t meno un mezzo è uno quindi in realtà in questo caso molto particolare se fate questo cambio di variabili dx uguale dt quindi allora è perfetto ci si riconduce proprio all'esercizio precedente facciamolo facciamolo per bene allora primitiva di 1 su 1 più x più x quadro in dx completamento del quadrato questo lo riscrivo come tre quarti più un mezzo più x al quadrato in dx change cambio di variabile un mezzo quindi x uguale x uguale t meno un mezzo dx uguale dt viene una primitiva di 1 su 3 quarti più t quadro in dt allora adesso per voi che è la prima volta che vedete questi integrali probabilmente per casa rifare tutti i passaggi che ho fatto prima col caso particolare alfa uguale 3 quarti per noi che dobbiamo guadagnare un po' di tempo qui a lezione posso usare il risultato di prima quindi vedi esercizio precedente chi era una primitiva vedi esercizio precedente con alfa uguale 3 quarti con alfa uguale 3 quarti chi era una primitiva di 1 su alfa più t quadro abbiamo detto che era 1 su radice di alfa quindi 1 su radice quadrata di 3 quarti per arco tangente di t diviso radice quadrata di 3 quarti è finito l'esercizio? no assolutamente perché? perché io cercavo una primitiva di questa funzione della variabile x mi avete dato una primitiva nella variabile t devo tornare indietro adesso devo riusare il cambio di variabile nell'altro senso per tornare alla variabile iniziale quindi vado avanti e scrivo 2 su radice di 3 non chiedetemi perché viene 2 su radice di 3 a questo punto dell'anno lo dovreste sapere sono radice quadrata di 3 quarti fa radice quadrata di 3 su 2 1 diviso una frazione si riscrive come il reciproco quindi è questo qui arco tangente di 2 fratto radice di 3 di nuovo perché ce l'avevo a dividere al posto di t devo mettere x più un mezzo right ovvero 2 su radice di 3 arco tangente di 2 su radice di 3x più 1 su radice di 3 allora che cosa ho imparato devo diciamo fate attenzione perché gli integrali sono degli esercizi estremamente complicati e cattivelli eh ognuno ha il proprio trucchetto ognuno ha la propria filosofia quindi bisogna cercare ogni volta che se ne fa uno di astrarre per quanto più possibile di estrapolare informazioni di carattere diciamo universale che cosa ho imparato da questo tipo di esercizio che se cerco la primitiva di una funzione del tipo 1 su polinomio di grado 2 senza radici quindi cosa ho imparato che è che la ricerca di una primitiva di una funzione del tipo 1 fratto o anche se invece di 1 avete 2, 3, 10 è uguale perché lo portate fuori dall'integrale a moltiplicare 1 fratto polinomio di grado 2 anzi scriviamolo proprio facciamolo così a più bx più cx al quadrato con c positivo e delta di questo polinomio cioè b quadro meno 4ac negativo quindi 1 fratto diciamolo volgarmente come se fossimo al bar una parabola rivolta verso l'alto e che non interseca l'asse delle x allora se la ricerca di una funzione del tipo e mi deve condurre mi deve dare come risultato finale una arco tangente di qualche tipo come ho visto prima e allora cosa fate voi lo fate lo fate proprio per casa questo esercizio qui provate adesso a generalizzarlo quindi fate per casa così vi convincete una primitiva di 1 su a più bx più cx quadro in dx con c positivo se preferite c uguale 1 va ben uguale non è un problema anche c uguale 1 l'importante è che non mettete tutti i coefficienti uguali a 1 perché se no l'abbiamo già fatto prima non è molto interessante e b quadro meno 4ac negativo allora è in tutto e per tutto uguale a quello che ho fatto prima è solo tecnicamente più complicato da scrivere il completamento del quadrato ma il principio è lo stesso quindi dovete partire da questi due termini cercare di vederli come un pezzo di binomio quindi questo è un quadrato è il quadrato di radice quadrata di c per x questo è un doppio prodotto e poi aggiustare i coefficienti in modo da far apparire un quadrato e quello che resta e vi riconducete esattamente al tipo di primitive che abbiamo fatto prima quindi provateci a farlo questo esercizio è molto più facile di quello che sembra però sono sicuro che per molti di voi sarà difficile la soluzione la trovate potete anche chiedere da me però magari prima guardate se non ci doveste riuscire la trovate sulle dispense questo è un esercizio che c'è sulle dispense così io prima della pausa ho ancora ben 13 minuti per farvi allora qui con i cambi di variabili virtualmente se si apre tutto un capitolo che durerebbe 2-3 settimane minimo quindi io cerco di farvi quelli più importanti quelli più quelli che poi ci servono anche di più per secondo semestre in modo da fare un corso self-contained diciamo così allora adesso ritiro in ballo un integrale che ho già fatto l'altra volta dice perché sempre i soliti e perché è bene anche che io vi faccia vedere che stessi integrali possono essere fatti in modi diversi con tecniche diverse così noi ci prendiamo dei diciamo delle funzioni da integrare che sono anche importanti per ciò che verrà nel secondo semestre e ci esercitiamo con le nostre tecniche per parti per le usiamo come palestra eh si si ricalcoli l'integrale tra 0 e 1 di radice quadrata di 1 me x quadro quello ricordate l'ho fatto venerdì scorso è quello di cui poi vi ho dato anche l'interpretazione geometrica come area di un quarto di cerchio si ricalcoli l'integrale usando stavolta un cambio di variabili allora anche questa è una tipica situazione in cui se uno vi dice usa un cambio di variabile qualche qualcuno di voi preso dalla disperazione prende tutta la funzione e dice uguale a t e questo è un bel problema perché allora poi questa è la nuova variabile funzione della vecchia x dovete invertire questa relazione e poi derivarla per scoprire che cosa vi viene al posto del dx e provateci vi viene una schifezza che non sapete integrare quindi lasciate perdere lasciate perdere qui qual è la difficoltà qual è la difficoltà di questo integrale che venerdì abbiamo risolto per parti l'abbiamo già risolto per parti vediamo un altro metodo mi sembra no? l'abbiamo fatto per parti sembra di sì nel caso la memoria mi dovesse fare difetto vabbè tanto adesso lo faccio quindi in un modo o nell'altro allora qual è l'idea qual è l'idea del cambio di variabile allora cercherei quindi come vi dicevo la difficoltà di questo integrale adesso è che c'è la presenza di una radice quadrata se non ci fosse la presenza di una radice quadrata 1 meno x quadrata è un polinomio lo so integrare una primitiva viene x meno x cubo terzi sfortunatamente non è così allora quindi cerco un cambio cerco un cambio di che tipo x uguale phi di t con phi che abbia delle proprietà magiche se è possibile che quando io vado a scrivere 1 meno x quadro quindi 1 meno phi di t al quadrato questo sia ancora uguale a un quadrato dice perché lo voglio uguale a un quadrato ebbè perché così ho un quadrato sotto una radice quadrata si elidono si neutralizzano uno con l'altro e io ho tolto dalle scatole la funzione che mi dava problemi che era la radice quadrata ok quindi questa è un po' l'idea è un'idea un po' un'idea un po' una idea magari non funziona magari sì chi lo sa allora con quale funzione ha la proprietà che 1 meno lei al quadrato fa ancora un quadrato mi viene in mente niente? cos quadro t più sen quadro t è uguale a 1 ovvero ovvero cos quadro t è uguale a 1 meno sen quadro t oh ma questo è esattamente quello che cercavo mi sa o no è vero o no? quindi questo sembrerebbe suggerire che potrei porre x uguale seno di t e allora 1 meno sen quadro poi fa cos quadro sotto radice e tutto si sistema allora proviamoci proviamo dunque con x uguale seno di t quindi questa è la nostra fi di t molto bene allora innanzitutto mi serve che quindi fi dove è definita? discutiamo un attimo fi perché deve essere biettiva deve essere una funzione biettiva deve essere una funzione biettiva a valori devo andare a ricoprire tutto l'intervallo in cui si muove x ma x si muove nell'intervallo 0 1 quindi la variabile t deve muoversi su un intervallo tale che l'immagine del seno sia l'intervallo 0 1 quindi questo è t qui ci sta x qui facciamo un po' il grafico del seno fatto completo allora io devo restringermi a un intervallo quindi devo considerare fi su un intervallo su un intervallo in cui è biettiva punto primo e 2 a immagine 0 1 se no non funziona allora dal grafico dovreste già capire cosa voglio fare voglio prendere questo seno tra 0 in 0 vale 0 in pi greco mezzi vale 1 quindi voglio prendere esattamente questo pezzo qui ok quindi la funzione fi il cambio di variabili faccio x uguale seno di t che sarebbe la mia fi di t con fi a valori da 0 pi greco mezzi in 0 1 come mi si altereranno gli estremi di integrazioni è al posto di quindi sto facendo l'integrale su questo asse 0 1 me lo trasformo all'integrale fatto su questo asse tra 0 e pi greco mezzi fi a meno in altre parole fi a meno 1 di 0 è 0 e fi a meno 1 di 1 da dove provengo con questa funzione da pi greco mezzi quindi l'integrale fra 0 e 1 di radice quadrata di 1 me x quadro in dx quanto fa? faccio il cambio scriviamolo sempre in rosso qui il cambio x uguale seno di t da cui dx questo finora avevo avevo fatto orecchio da mercante avevo fatto finta di niente vi avevo depistato l'attenzione adesso non possiamo più depistarla non era solo una storia di semplificare questa funzione devo anche tenere presente che mi si modifica il dx quindi viene una nuova funzione a moltiplicare vediamo che cosa viene viene la derivata del seno che è coseno indettiva beh poco male poco male poco male ora vediamo perché quindi viene integrale fra per quello che ho appena detto 0 e pi greco mezzi che sono i nuovi estremi di integrazione radice quadrata di 1 meno sen quadro t e poi viene un bel cos t dt e questo è il solito questa è la solida relazione eh tra gli elementi infinitesimi di integrazione l'elemento infinitesimo di integrazione allora andiamo avanti vediamo quanto è complicato l'integrale che abbiamo ottenuto così poi potete comparare se vi piace di più il metodo visto l'altra volta per parti o il metodo attuale con la sostituzione con le funzioni trigonometriche l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di adesso uso la relazione fondamentale viene cos quadro per cos t giù le mani dal foglio perché so che qualcuno sta già per semplificare questo e questo voi mi direte ma prof e l'abbiamo fatto apposta certo ma ricordatevi scriviamolo qui elemento ricordatevelo radice quadrata di x al quadrato quanto fa? fa valore assoluto di x eh perché il risultato deve essere sempre positivo quindi questo se x è un numero reale diciamo una nuvoletta così quindi qui in prima battuta cosa devo scriverci? integrare tra 0 e pi greco mezzi di cos t in valore assoluto per cos t adesso devo discutere il segno perché questo valore assoluto dentro l'integrale un po' mi dà fastidio mi disturba ma basta osservare che cosa osservo adesso? che segno ha il coseno tra 0 e pi greco mezzi quindi il coseno è positivo su 0 pi greco mezzi giusto? quindi allora posso sciogliere l'ambiguità cos t per cos t ovvero integrale fra 0 e pi greco mezzi di cos quadro t mi sono ridotto quindi a integrare cos quadro e mi direi come si fa? niente l'abbiamo fatto l'altra volta l'abbiamo fatto l'altra volta come l'abbiamo fatto? con la formula di integrazione no l'abbiamo fatto a lezione con la formula di bisezione e poi a voi per esercizio ve l'avevo lasciato da fare come con la formula di con l'integrazione per parti quindi questo ve lo riscrivo integrale tra 0 e pi greco mezzi questo cos quadro lo scrivete come 1 più coseno di 2t fratto 2 quindi tutto questo è già visto l'altra volta già visto lezione adesso ve lo rifaccio per semplicità però lezione 22 e una primitiva di questa funzione è t mezzi più seno di 2t fratto 4 tra 0 e pi greco mezzi quindi mi direte ma adesso devo tornare indietro? devo devo tornare alla variabile x? non c'è bisogno stavolta perché adesso state calcolando un integrale definito quindi avete già tenuto conto del cambio qui negli estremi il risultato che dovete ottenere adesso non è una primitiva ma è un numero quanto fa quest'integrale? quanto fa quest'integrale? c'è scritto qui perché viene 1 mezzo per pi greco mezzi più seno di 2 per pi greco mezzi che fa seno di pi greco che fa 0 meno meno 0 meno 0 più 0 e anche questo fa 0 quindi riottenete il pi greco quarti che avevamo già ottenuto l'altra volta ovviamente se voi fate uno stesso esercizio con due metodi diversi il risultato deve essere lo stesso allora fermiamoci qui e poi dopo la pausa continuiamo a fare qualche cambio di variabile notevole grazie a tutti Grazie a tutti.